Oggi parte il progetto Summer Village, l'edizione 6.0. Questo significa che è un progetto di grande successo, voluto fortemente dalle mamme e da bambini ricoverati nell'ospedale Posillipon, perché il segreto di questo progetto è portare l'estate all'interno dell'ospedale. Quindi colmare i pomeriggi, le giornate un po' vuote dei ragazzi che sono qui in terapia con delle attività ludico, creative, ricreative, che li intrattengono e portino dei momenti di gioia, di spensieratezza. Sono attività ludiche basate su un gioco, ma un gioco non fine a se stesso, ma un gioco terapeutico, il cui obiettivo è quello non solo di abbassare la soglia di stress dei bambini ricoverati, il cui obiettivo è quello di poter fare intervenire le psicologhe a cui è affidato questo delicato compito per poter supportare i bambini e i ragazzi e aiutarli a superare questi momenti di difficoltà. È un progetto voluto anche dalle mamme perché le attività non sono solo indirizzate e finalizzate ai bambini, ma anche alle mamme stesse. Quest'anno ci saranno dei progetti di danza che coinvolgeranno quindi anche le mamme danze del Mediterraneo, per cui si provvederà non solo a informarle sulla storia di alcune danze tradizionali del nostro paese, ma ci sarà poi proprio il momento di gioco, di ballo, di musica. Tutti gli esperti che verranno quindi proporranno attività diverse, pittoriche, manipolative, verranno creati quadri, si lavorerà così come è già stato fatto l'anno scorso con delle pietre prese dalle spiagge e attraverso queste attività, appunto, attraverso il gioco i ragazzi faranno trasferire le loro necessità. Il Pausilipon Summer Village è, come diceva la dottoressa Di Fiore, un progetto che ha come scopo fondamentale quello di proporre delle attività organizzate e strutturate, delle attività specifiche rivolte ai bambini e adolescenti presenti in ospedale in un periodo dell'anno che è per antonomasia un momento di svago, che è quello delle vacanze estive. Per cui il senso proprio del Summer è offrire un momento di socializzazione nel quale i bambini possono esprimersi, possano anche comunicare quelle che sono le loro angosce, le loro paure, ma anche le loro emozioni e possano quindi rendere quello che è un momento particolare della propria vita il più normale possibile. Il filo conduttore di questi laboratori estivi sarà il gioco, ma il gioco inteso come un'attività strutturata e non il gioco così come si pensa che possa essere. Siccome il gioco è il canale comunicativo utilizzato dai bambini, così anche gli adulti devono utilizzare questo canale comunicativo per poter arrivare al bambino. Ecco che i laboratori saranno dei laboratori che verranno proposti in uno spazio, che è lo Scugnizzo Club, uno spazio dedicato ai bambini che è diverso dai reparti, è uno spazio nel quale non ci sono medici, non ci sono infermieri, ma è uno spazio che è a loro disposizione proprio per evadere per qualche ora dal reparto dell'ospedale. Il senso proprio del summer è quello che noi ci aspettiamo che il gioco in ospedale attraverso il summer village possa far restare bambini, tutti i degenti in ospedale, anche se in questo percorso di malattia e di cura. Il progetto summer village è uno dei progetti sempre attivi dell'Associazione Genitori Insieme Ollus, insieme a tanti altri progetti come le ali di Gianandrea che si occupa di esaudire i desideri dei bambini, ma anche di aggiornare e formare medici e infermieri ed anche la ricerca. Infatti vogliamo sostenere e finanziare la ricerca perché ricerca significa offrire un futuro ai nostri ragazzi. La nostra speranza è quella che ci possa sempre essere una guarigione anche dalle malattie più terribili. Abbiamo tanti altri progetti come le note di Sabrina, è un progetto musicale che quest'anno si è arricchito di un coro stabile dell'ospedale, del presidio ospedaliero Pausillipon. Un progetto che coinvolge quindi con il coro non solo i bambini ricoverati, ma anche i genitori, i volontari e vorremmo arrivare anche a tutti i medici e gli infermieri che vogliono essere coinvolti. C'è anche il progetto Alici Volontari Alici. Le nostre volontarie hanno la necessità di essere sempre formate e quindi seguite da una psicologa che le guidi nell'approccio quotidiano con i pazienti e con i loro genitori durante questa fase difficile da affrontare e di grande stress. Quest'anno ne abbiamo lanciati tanti altri nuovi, quindi come il progetto Coccoliamoci, che è mirato soprattutto alle mamme che accompagnano qui i bambini in terapia, perché è un progetto sostenuto, gestito da una farmacista che quest'anno ha ricevuto il premio di farmacista dell'anno e che si è voluta dedicare volontariamente sia a pazienti oncologiche, ma in questa sede il progetto è stato declinato verso le mamme dei piccoli pazienti alle quali viene offerto un massaggio, un trattamento viso, quindi dieci minuti di relax per allontanarle un po' da questa realtà stressante e farle anche ricordare che hanno un corpo, prendersi cura di sé, non solo essere quindi caregiver, che occuparsi dei figli malati, ma anche ritagliarsi è uno spazio per sé stessi, quindi offriamo una coccola in più alle mamme. Tra i nuovi progetti, un altro progetto di grande successo sicuramente è il Cineforum che stiamo attivando ogni domenica pomeriggio qui in ospedale, per cui la domenica, che è sempre una giornata un po' più vuota, con meno presenze e anche un po' più triste per chi invece si deve ricoverare, diciamo che questo momento può essere allietato dalla visione di un film. Tra gli ultimi progetti abbiamo uno, due, tre Ciac, grazie all'aiuto e al sostegno di una giovane attrice, Ludovica Bizzaglia, che ha deciso quindi di dedicarsi ai nostri adolescenti rendendoli partecipe del mondo cinematografico, l'obiettivo è quello di non solo fare un make-up artist, un book fotografico, ma poi per giungere poi alla fine a un cortometraggio in cui i nostri pazienti saranno protagonisti. Un ultimissimo progetto futuro vuole essere quello di riprendere la pet therapy, un vecchio progetto già esistente, perché sappiamo che far entrare un cucciolo in ospedale potrebbe essere un momento piacevole, un piacevole distrattore per i bambini e fargli dimenticare anche per un po' la malattia. Un ultimo progetto che ora stiamo lanciando, il futuro siamo noi, un laboratorio fotografico breve perché saranno quattro appuntamenti però mirati proprio ai ragazzi e agli adolescenti, quindi sarà insegnato loro come attivare, come gestire un laboratorio fotografico e alla fine ovviamente faranno le proprie fotografie e quindi poi ci aspettiamo, non so, magari possiamo pensare di fare qualche mostra con le fotografie dei nostri ragazzi, poi lasceremo a loro, alla loro creatività il futuro di questo progetto. La figura del donatore, dello stakeholder che ci segue è fondamentale, numerosissimi sono i progetti che ci impegnano in prima persona, impegnano i nostri volontari, ma è chiaro che ci vogliono delle risorse economiche a sostegno di questi progetti, quindi è importante farsi conoscere, far conoscere i nostri progetti all'esterno in modo che i donatori sappiano che cosa facciamo, che cosa si realizza qui in ospedale e che ci sostengano. Senza il loro sostegno tutto questo non sarebbe possibile, quindi confidiamo nel loro aiuto, nel devolvere il loro 5 per mille alla nostra associazione e i genitori insieme e mi piacerebbe proprio lanciare una campagna a sostegno di ogni progetto, cioè adotta un progetto in modo che ogni donatore, ogni stakeholder, a secondo del progetto che più gli piace, può decidere di aiutarci a sostenerlo, a finanziarlo ogni anno.